Firma sul contratto, primo allenamento e probabile esordio domenica all'Avicor Stadium contro il Matese. Niccolò Romero scalpita risolto il legame con la Lucchese, formazione che milita in Lega Pro, il bomber dalla grande fisicità, classico centravanti vecchia maniera, che sa giocare con la squadra, non vede l'ora di fornire il suo contributo per portare il lupo dove merita. Ho trovato veramente grande serietà, grande delizione, sono molto contento di aver trovato un ambiente quanto più professionale possibile, quindi sono molto contento e molto carico di vedere come vanno i prossimi giorni, di vivere la prima partita, di vivere questi mesi sperando che veramente possa essere io di aiuto a raggiungere l'obiettivo che tutti quanti speriamo. Romero, classe 92, ha messo assieme 300 presenze tra i professionisti, con le maglie della Lucchese, Juve Stabbia, Potenza, Piacenza, Sud Tirol e Feral Pisalò. Sicuramente è un campionato molto combattuto, molto difficile, ci sono girononi, leggo da altre parti, dove ci sono magari più 15 sulla seconda, questo invece è tutt'altro, ci sono 4-5 squadre veramente che si arrotteranno fino alla fine, e noi vogliamo essere assolutamente la principale di queste, speriamo davvero di raggiungere quanto più brevemente e velocemente possibile il nostro obiettivo, ma sarà molto molto difficile perché la qualità delle altre squadre è veramente elevata e è veramente un gran bel girone questo per essere la Serie D. È in città e sarà rosso-blu anche l'under Mario Del Prete, classe 2005, professione mediano, proveniente dalla Casertana. Intanto la squadra si allena con grande determinazione per sfruttare al meglio il doppio turno casalingo contro Matese e Atletico Ascoli, unico assente Serra per la mezzala, lesione al bicipite, dovrà rimanere ai box per circa un mese. A suonare la carica, intanto, a poche ore dal confronto con l'ultima della classe da non sottovalutare, è l'esperto difensore Nonni, leader indiscusso in campo e nello spogliatoio. Bisogna ragionare domenica per domenica, quindi non bisogna né guardare avanti né indietro, pensiamo partita per partita perché sono tutte finali.